è una giornata molto particolare una giornata di festa per tutti quelli che amano il golf siamo in un posto paradisiaco che è il golf club di arzaga la caratteristica di questa giornata o di una giornata come questa deve essere la spensieratezza e la letizia è stata una bellissima giornata molto ben organizzata devo dire ottima l'accoglienza del circolo e poi l'organizzazione dell'evento è stata impeccabile e poi devo dire che giocare a golf aiuta la socializzazione non so perché io che magari non sono un grande socializzatore ma sul campo da golf mi trovo bene a conoscere le persone ritengo che il golf sia un gran sport perché la lotta è contro se stessi poi perché è sempre diverso ci sono una marea di elementi che possono influenzarlo le regole sono un po complicate quindi sono una serie di elementi che lo rendono veramente interessante in più c'è anche il tempo di fare due chiacchiere e poi da giocando a golf con le persone si capiscono si capisce molto di come sono fatte nel gioco del golf non c'è mai un giorno uguale all'altro può giocare benissimo il giorno prima giorno dopo giochi malissimo oppure come è capitato a me oggi non giochi per due settimane giochi sei buche benissimo e tre buche malissimo il fatto che nel golf si giochi anche con persone che non si conoscono è un plus del golf è sicuramente una buonissima occasione per fare conoscenza come sigla come siamo stati orgogliosi e anche contenti di partecipare a una giornata dedicata al golf perché avvicina davvero le persone consente incontri ed è come tanti ci hanno detto una sfida con se stessi non da poco come il nostro cuore pulsante di sigla con quindi una sfida costante tutti i giorni con noi stessi a favore dei nostri clienti